Il comune di Sulmona cambia idea sulla nuova serie dei Vigili del Fuoco, non più l'ex caserma Cesare Battisti ma un'altra location da individuare con gli addetti lavori. Dopo l'ok che era arrivato esattamente un anno fa, ovvero il 28 gennaio 2021, da Palazzo San Francesco rimettono tutto in discussione, riaprono la partita. Il trasferimento era stato accordato in caso di sussistenza dell'indice di sicurezza che per l'ex caserma Battisti non ci sono, interviene vice sindaco Franco Casciani che sin dall'inizio aveva espresso perplessità riguardo alla soluzione trovata dalla passata amministrazione. L'interlocuzione è ancora aperta ma politicamente la scelta della Battisti non ci sembra percorribile. Potrebbe invece essere usata per altri servizi, riprende Casciani che spiega che le trattative in atto si stanno concentrando essenzialmente su tre ipotesi. La zona tra via Le Costanze e via 25 Aprile, quella tra la Badia e la regione industriale è precisamente sui terreni di proprietà dell'ex Casa Santa di fronte l'Europa Parco Hotel e nei pressi dell'ospedale con tanto di eliporto eventualmente da realizzare. Sono ormai più di 20 anni che si parla di una nuova caserma per i vigili del fuoco di Sulmona senza che si metta in pratica il progetto di lungo corso. La piccola struttura ospita 32 pompieri divisi su quattro turni che dalla fine degli anni 60 si sono adeguati a una costruzione di proprietà della provincia che nulla di strategico né di agevole per i circa mille interventi e soccorsi che ogni anno in media si svolgono. La prima ipotesi potrebbe essere percorribile ma stiamo valutando una serie di condizioni, conclude Casciani. La novità per il momento è che i vigili del fuoco verosimilmente non andranno dall'ex Caserma Battisti per la quale è in corso lo studio di fattibilità per la realizzazione di una cittadella sociale con i finanziamenti di 2 milioni di euro ottenuti a suo tempo dall'era Ranalli.